Se c'è una risposta positiva riguardante che ci possono nel giro di un mese aiutare con la liquidità siamo sicuramente costretti a chiudere, quindi è una cosa che ci fa troppo male pensando di avere lavoro, però per mancanza di liquidità chiude. Quindi speriamo che oggi da questo incontro esca qualche nota positiva perché se esce solo nota negativa purtroppo abbiamo poco da vivere aziendamente.